Partiamo Facciamo touch Vai Dov'è touch? Touch Uno, due, tre, quattro e cinque Vediamo se io ho fortuna Dai Uno Due 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 Buono, buono Quanto è andato? Ok Facciamo Marco Dai Marco Dai Dai Uno Due Due No, vivi in merda no Facciamo Asop Subito Dai Due Tre Facciamo tre alla volta Uno 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 Uno, due, tre Facciamo così Vediamo 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 Ok Va bene Riusciamo 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 a avere un culo incredibile ora Dai Concentriamoci Uno Uno Due Che Che culo Che culo Che culo Che culo incredibile Non ci posso credere Non ci posso credere Che culo No vabbè Andiamo ad Apu Che culo Che culo Che culo Che culo Vediamo Apu Uno 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 Vediamo Apu Salito Uno 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 Due Tre Uno 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 Ok Eh Chi altri abbiamo ora? Altri tre Apu 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 Ehm Apu Apu Un Due Un Tre Ok Dai Uno Uno Sì Due Due Facciamo tre Due No Va bene così Ok Ah i tre ciopperini Un Due 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 Tre Quattro Vai Sale Sale Same Same Ancora Uno Uno Vabbè Va Keido Chopper Molto Un Uno Uno è nero. Cazzo, lo devo togliere pure? Non l'ho dimenticato. Riusciamo? Vediamo. Uno. Sei. Niente, vabbè. Charge, non ho niente a dargli, quindi va bene. Poi, poi, poi. Eh sì, è rimasto... Isatto. Ok, andiamo a Doff. Concentriamoci. 1, 2, 3, 4, 5. Vai. 1, 2, 3. Ah, 3. Già l'infarto. Va bene. Poi, 1, 2, 3. Facciamo. Va bene. Same. Dai. Anche uno va bene. 1. 2. 2. Ok, ok. Ok. Niente, Socket. 2 e 3. E poi gli ultimi 5. Super success. Parca, cazzo. Niente. Gli ultimi. 1, 2, 3, 4, 5. Vediamo. Level up. Same. 1. 2. 2. Va bene. Va bene. È andata abbastanza bene, devo dire. Ah, sopra incredibile. Ottimo. Qui. Sì, sì. Qui. Sì. Chi. Sì. Isatto. Chi. Sì. Grazie a tutti.